Sindaco Settimo è uno dei comuni più penalizzati dall'attuale sistema di pedaggiamento. Appoggiate anche a voi questo ordine del giorno? Sì, appoggiamo anche noi questo ordine del giorno, anche perché in questo momento, tra virgolette, storico, in cui è in discussione la concessione, credo che sia proprio il momento per rivendicare quelle che sono le nostre richieste, ovvero il superamento delle due barriere, cioè quella di Falchera e quella di Settimo sulla Torino-Osta. Equiparerebbe il comune di Settimo, che è uno dei principali della cintura, alla quasi totalità dei comuni che oggi possono usufruire la tangenziale a costo zero. Ci sono anche dei problemi di viabilità di accesso o di uscita dalla tangenziale nella vostra zona che sarebbero da risolvere in sede di rinnovo della concessione? Era prevista ed è prevista una uscita nella zona commerciale di Settimo Cielo e poi il superamento della barriera ovviamente comporterebbe una revisione delle strade di accesso. Ma questa barriera quanto inquinamento e traffico in più vi causa? La barriera sicuramente causa inquinamento proprio perché di fatto è una barriera e poi ovviamente chi sceglie di non prendere la tangenziale perché ha un costo ovviamente va in tasare le strade normali.